L'Italia è davvero un paese strano perché si premia chi non lavora, rogandogli indennità, prebende e tutto il ben di Dio possibile, mentre chi lavora da dipendente viene preso a mali fatti da parte dello Stato, per non dire poi di chi ha l'avventura di lavorare in maniera autonoma, che viene semplicemente trascurato, preso per i fondelli e a calci in culo da parte dello Stato. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata dello Schiacciassassi da parte di Stefano Elena e se starete con noi fino alla fine della trasmissione vedrete anche come nel nostro Domenico Lacava, quel suo solito verbo critico e pungente, interpreta la situazione. Parleramo appunto di diversità di trattamento tra chi non lavora e chi lavora e come lavora. L'ultima novità in ordine del tempo arriva dall'Inps che ha emanato una circolare per cui si comunica alle imprese che tutti i lavoratori che per ventura, per sfiga, devono starsene a casa dieci giorni in quarantena perché scoperti o a contatto con persone che portano al Covid, quest'oro, non per colpa loro, saranno costretti a stare a casa dieci giorni appunto a reddito zero perché l'Inps non ha più i soldi per pagare la quarantena e questo secondo categorie come un'impresa, come molte forze politiche, i sindacati dicendo, stanno facendo i conti che ciò comporterà un terzo in meno di stipendio al mese a carico che questi lavoratori e quindi in una media di 6-700 euro in meno. Tutto questo perché l'Inps non ha più i fondi a disposizione per coprire questa indennità. E sì, nota bene per la serie due pesi, due misure, è stato ladro, è stato padrone, è stato soprattutto patrigno nei confronti di chi lavora. Lo Stato stesso, solamente poche settimane fa, ha pensato bene di rifinanziare con una botta di miliardi e quel famoso reddito di cittadinanza che sta favorendo tutto il suo contrario dell'illegalità. Lavori in nero, indennizi ai camorristi, addirittura il 35% delle fonde del reddito di cittadinanza è erogato a famiglie che non stanno dentro nei criteri delle famiglie bisognose. Insomma, se non si potesse cancellarlo dalla sera alla mattina sarebbe una cosa buona, giusta ed equa e corretta. Però torniamo al discorso dei lavoratori dipendenti. I lavoratori dipendenti questi sono incolpevoli perché è caduta sul loro testa una mannaia perché lo Stato si è dimenticato di rifinanziare l'Inps e l'Inps naturalmente tra l'incudine e il martello dice che non può superare i vincoli di spesa stabiliti dalla legge dello Stato e quindi avendo esaurito i fondi a disposizione perché lo Stato non li ha rifinanziati e si trova costretto a sospenderli. Che dire, è veramente una situazione kafkiana dove lo stesso ministro del lavoro Andrea Orlando del PD e la sua viceministra Todde del 5 Stelle dovrebbero preoccuparsi più a risolvere queste problematiche qui che non andare a caccia dei fantasmi e delle multinazionali che ti licenziano dalla sera alla mattina con una posta elettronica o che se ne vanno via perché l'Italia non ha più le condizioni economiche degne di essere concorrenziali rispetto ad altri paesi. Pensiamo semplicemente il costo esorbitante delle tariffe elettriche ma poi c'è anche la questione del fisco ma tornando alla questione appunto clou di questa puntata dello schiacciassassi è vedere come chi lavora, chi intraprende, chi rischia nel proprio venga continuamente vessato da parte dello Stato mentre chi approfitta, chi tramaccia, chi imbroglia, chi sta a casa senza fare una beata madonna viene invece premiato. È una situazione che deve essere cambiata perché così un sistema non sta in piedi e ricordiamoci che l'articolo 1 della Costituzione l'ha sempre usannato come faro della socialità, della regolazione dei rapporti tra le persone che abitano in questo Stato dice che la Repubblica Italiana è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza, sulle truffe, sui mezzucci e quant'altro, sul lavoro. E la Repubblica così come il governo, la politica e quant'altro dovrebbe finalmente premiare chi lavora sia da dipendente ma soprattutto coloro che lavorano in proprio, che intraprendono, che hanno il merito, il dovere di creare lavoro e ricchezza per sé e anche per i propri dipendenti collaboratori che troppo spesso vengono cacciati, tacciati a malomodo, denegati e presi a calci in culo. Vi avevo detto di come il nostro Domenico Lacava interpreta la situazione. Andiamo a vederla. Ve la ricordate quella canzone che anni addietro Celentano aveva scritto che chi non lavora non fa l'amore? Beh, questa volta la declina in maniera un pochettino diversa. Vediamo un premier del governo Mario Draghi, sempre in tenuta da Draghetto, alato questa volta, che con il cappellino da Celentano intona un ritornello un pochettino cambiato dicendo chi non lavora becca i soldoni. E infatti si vede che Draghi versa come se fosse una cornucopia soldi su soldi su soldi sulla bilancia del reddito di cittadinanza, mentre su quello destinato all'Inps al finanziamento dell'indenità per chi deve stare a casa in quarantena, nulla è dato e c'è il piatto vuoto, con pieno di ragnatele. Ecco, questa qua è una amara realtà da cui uno Stato libero, democratico e soprattutto fondato sul lavoro non ci si dovrebbe mai aspettare. I soldi ci sono, utilizziamoli per le voci che servono realmente per mandare avanti lo Stato e la società. Tutto il resto è solamente fuffa. Cari amici vicini e lontani, siamo giunti anche al termine di questa puntata, prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, dateci la forza per andare avanti per questa voce fuori dal coro, indipendente, autorevole e non allineata, iscrivetevi appunto al nostro canale, dateci una mano. Intanto da Stefano Velena un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!